ciao a tutti amici di esperienza normale siamo in compagnia di Elephone P5mila per l'unboxing ringraziamo come sempre GrossoShop.net per il device in prova metterò il link per l'acquisto in descrizione questa è la scatola all'interno della qua abbiamo due scatole una che contiene l'alimentatore da parete bello grande è riconosciuta da 2A per la ricarica abbastanza rapida della batteria molto molto capiente come ci dice anche il nome dello smartphone e in quest'altra scatola invece abbiamo il telefono con i vari accessori andiamo a mettere via il resto vediamo un po' questo è il telefono in colorazione nera poi abbiamo questa scatolina dove troviamo il cavetto USB micro USB e questo simpatico accessorio che non è altro che un cavo diciamo non è un cavo ma chiamiamolo cavo OTG perché appunto è un piccolo Android si può anche fare da portachiavi c'è un foro per il laccetto quindi molto utile e portatile qua abbiamo l'ingresso di uscita micro USB e qua abbiamo l'ingresso USB tradizionale quindi possiamo utilizzare chiavette anche su questo terminale grazie a questo oggettino molto molto simpatico ben fatto non avevo mai visto uno simile quindi piacevole anche questa piccola sorpresa andiamo a vedere il telefono ah si oltre a questo non l'ho detto ma c'è anche una pellicola nella confezione pellicola che tra l'altro è pre applicata anche sui terminali quindi due pellicole in totale cosa per me è molto molto buona vediamo che si accenda prendiamo di dimensioni 14.4 cm 7 di larghezza e uno spessore di 9.3 mm quindi bello il trottello e anche il pesante perché pesa 206 grammi ma qua è tutto spiegato sia lo spessore che il peso della batteria perché la batteria è una 5350 mAh quindi una batteria veramente enorme vediamo se si può aprire qua dietro per mostrarvela eccola qua c'è praticamente abbiamo una power bank inserita all'interno del terminale veramente notevole devo dire qua abbiamo i due slot per le sim che dovrebbero essere in formato tradizionale come vedete e lo slot per la micro sd che va ad espandere 16 giga di memoria del telefono andiamo a chiudere tanto dico che il telefono come design mi piace perché forse sembra un po' anonimo però in realtà dal vivo secondo me ha un suo carattere belle le connici che sono di un grigio leggermente opaco come anche il retro che è nero opaco e il tratto non mi sembra trattenere molte ditate questo per me è molto molto importante logo elefono anche questo è abbastanza carino mi ricordo un po' lo logo dei transformer se non vado errato quindi piacevole lato destro accensione disperimenti blocco sblocco parte alta ingresso micro usb e jack da tre e mezzo per le cuffie pulito parte bassa abbiamo due casse stereo in teoria staremo a vedere poi utilizzandole e il primo microfono ok allora riprende un po' ovviamente si vede subito il design di qualche samsung quindi tasto centrale identico multitasking anzi qua fa da opzioni e indietro poi magari tenendo premuto vedremo frutta non posso dire niente ancora però sembra discreta android 4.4.2 kitkat abbiamo un display da 5 posi full hd ips processore è un mediatek octa core da 1.7 gigahertz però non sono ancora 64 bit però giudicare dalla gpu che è la mali mp450 potrebbe essere anche il vecchio tra ricordi processore octa core di mediatek con 2d ram e 16 di memoria espandibili la fotocamera è una 16 megapixel autofocus flash led e 8 megapixel quella anteriore la batteria come ho detto è 5.350 miliampere quindi mi aspetto molto a questa questa batteria cambiamo sfondo perché non lo posso vedere scusatemi un attimo mettiamolo a caso giusto per cambiarlo ok è già meglio colore di display sembra discreto l'angolo di visione vi dico subito che sono ok abbiamo il sensore per le punti digitali qua abbiamo anche nfc come vedete vediamo un po se stovo che è printing e finger scanner vediamo subito come funziona se funziona ok ah bene qua funziona decentemente adesso ci sta registrando le varie mettiamo mettiamo 0 0 0 0 giusto così per fare una cosa in diretta ok slide vediamo comunque dai funziona almeno prende bene il comando non come il kingzone z1 che non andava anche se passavo 10.000 volte bene dato questo per questo unboxing è tutto noi ci diamo per la recensione più avanti un saluto da Lorenzo per esperienza no bye ciao 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 ciao